Mi sembra di dire che la difesa 3 forse non dà tutte queste garanzie, che l'attacco continua ad essere abbastanza... Una cosa alla volta, perché la difesa 3 non dà garanzie? Se lei entra nello specifico poi io vado nello specifico, perché... Un po' più basso, un po' più basso... Perché ha preso 10 gol? Sicuramente ha preso 10 gol, però la difesa 3 che si presuppe sia 5, non a 3, perché noi abbiamo due esterni che sono praticamente due terzini, non due ali, danno maggiore copertura con di più due mediani di filtro e quindi è una difesa molto protetta e va quantificata sia nelle colpresi, ma anche nelle palle colzubite. Probabilmente noi non abbiamo il riscontro della difesa 4, che avrebbe maggiori spazi per l'avversario, maggiori spazi tra le maglie dei giocatori e probabilmente questo potrebbe portare a una maggiore azione da parte dei nostri difensori in ampiezza e potrebbe avere maggiori difficoltà, quindi nella densità cerchiamo di trovare maggiori riscontri dal punto di vista difensore. Ma non spostiamo a centrocampo e non fa filtro? Non fa filtro a centrocampo perché abbiamo due mediani. Arriviamo alle 5 sconfitte, insomma c'è qualcosa che non può. Io le sconfitte le analizzo una alla volta, non le posso? Io le analizzo una alla volta, non le analizzo tutte quante insieme e una alla volta ognuno è figlia di una storia, di una storia diversa, quindi non sono tutte quante figlie dello stesso errore o della stessa storia, sono storie diverse, che nascono da episodi diversi, che nascono da prestazioni diverse, che nascono da situazioni diverse, quindi se io ho una squadra, cioè la mia, che nell'arco di una partita non subisce un tiro in porta perché il nostro quartiere non ha fatto una parata, dalla fase difensore non gli posso dire niente, non gli posso rimproverare niente, capisco che giornalisticamente parlando o a livello di difoseria questo è un numero che sicuramente è allarmante per voi, però dal punto di vista della prestazione io mi difensore e non gli posso rimproverare niente quando non permettono nemmeno un tiro in porta. Questa prestazione parla di una sconfitta contro una squadra con senza sei titolari, in grave difficoltà e insomma... Perché lei da 16 giocatori di Rosa chiede che ci siano dei titolari fissi? No, vabbè, guardi se io ho quest'alibi, sì ma ognuno può parlare, ognuno a casa sua parla come vuole, io parlo a modo mio, io non mi sono mai lamentato se ci sono degli a senso o no, perché ritengo che nella Rosa ci sono tutti i titolari, quindi io non faccio questo tipo di discorso, io le rispondo a quello che mi chiede lei, in base a quello che mi chiede lei io le do le tre risposte. E le risposte sono che in questa Rosa non esistono titolari o riserve, come credo che non esistano dalle altre parti, possono essere, io parlo del Catanzaro, del Messina, non lo so, io non sono l'allenatore del Messina. E non faccio mai un alibi e né tantomeno un vanto se ci sono o non ci sono giocatori in più o in meno, perché fare un vanto o un alibi significherebbe offendere quelli che sono scesi in campo precedentemente, che mancano o che ci sono. E quindi che cosa vuol dire? Che se ci sono sei assenze e ho vinto la partita sono bravo io, se ci sono sei assenze e ho perso la partita è colpa delle assenze. No, le assenze non c'entrano, non c'entrano quelli che scendono in campo perché sono tutti uguali. Quindi va bene, secondo lei va tutto bene, il fatto che si sia perso? No, non va bene perché siamo alla terza sconfitta consecutiva, all'ennesima sconfitta, una sola vittoria e il resto sono tutte sconfitte, non va bene assolutamente, però non va bene a livello di risultato, perché a livello di prestazione non posso rimproverare la squadra nell'impegno e nella prestazione, perché quando una squadra, la partita con la Paganese ha una storia a sé, dove io sono entrato qui dentro e ho chiesto scusa, per primo, senza che nessuno mi dicesse niente. E detto questo, questa partita io non ho nulla da rimproverare, né a livello di prestazione né a livello di impegno ai giocatori. Abbiamo cercato di rinforzare il più possibile la fase offensiva, abbiamo cercato di dare soluzioni sempre offensive, cambiando anche il sistema di gioco, cambiando caratteristiche dei giocatori per cercare di mettere ulteriormente loro in difficoltà. È entrato Campagna, ha avuto una calamarosa palla-goal, è entrato Bacco, l'ha fatto girare bene palla, è entrato Sarau, è stato più presente in area di rigore dei Tavares, questi sono stati i cambi. Ma perché ha subito Marrasbeck invece a Roselli? Perché Marrasbeck era più un giocatore di posizione, Roselli è più un giocatore di rincorsa, a quel punto si sarebbero allungate le distanze e serviva un giocatore di maggiore gamba per andare a recuperare. Perché invece durante la settimana ha provato con Bacco, un po' più avanzato rispetto al solito? Perché dove ha giocato per dieci minuti? Perché durante la settimana si fanno delle esercitazioni, non detto che sia la formazione che gioca, si fanno delle esercitazioni perché tutti i giocatori possono essere in grado di fare più cose. Ma io sto rispondendo a lui, che cosa vuole scusa, che le devo dire? Io sto parlando di prestazione, ho perso, lo so anche io. Qualcosa abbiamo sbagliato. Guardi, non mi becca nella polemica, può stare tranquillo, non direi che lei abbia l'atteggiamento di rottura. No, non è questione di avere l'atteggiamento di rottura, è questione che siamo alla quinta sconfitta su sei partite. Lei mi sta dipingendo, non parlo quasi di Lira. No, io le sto dipingendo il quadro di una squadra che ha giocato bene, che ha creato tanto. Io le sto rispondendo su una squadra che ha fatto una buona prestazione, creando tanto e subendo niente. Ha perso la partita. La crisi, io sono contento della prestazione e dell'impegno, non sono contento del risultato, perché il risultato fa sempre la differenza. Ognuno di noi ce l'avete a modo suo. Lei ha la sua opinione, io la mia. Lei fa il giornalista, io l'allenatore. Lei ha preso zero al corso di commerciale, io 110 all'ora. Questa è la differenza. Però io il giornalista non l'ho mai fatto, e tantomeno ho la qualifica dei giornalisti. Quindi lei faccia il suo. Io le sto rispondendo educatamente alle sue osservazioni. Ma io non credo di essere maleducato. No, no, assolutamente no. Io sto semplicemente rispondendo educatamente. Non sto né con tono di polemica, ma con un punto di vista che è quello mio. Io ripetisco, mi meraviglio non nel tono maleducato. No, quello no. Mi meraviglio il tono, diciamo così, contento di una prestazione. Sì, perché io entro nello spogliatorio, entro nello spogliatorio e trasmetto ottimismo. Non posso trasmettere pessimismo. L'ottimismo è determinato dalla prestazione, che è stata una prestazione, secondo me, ottima, dove si sono create tante palle e gole. Si è gestita molto spesso la palla, si è giocato su ampiezza e su profondità, su gestione della palla, si è giocato rischiando zero, su palle lunghe. L'unica palla che giocavano loro era questa palla lunga su Mininkovic, chiudendolo praticamente sempre. in unica volta, addirittura eravamo anche in superiore numerica, abbiamo letto male una situazione, c'è scaturito il gol, però questo non lo posso andare dentro gli spogliatori e buttare al vento tutto quello che è stato fatto. Sono state fatte delle cose positive dalle quali bisogna ripartire sicuramente. è un momento sicuramente difficile, questo è fuori discussione, ed è giusto che mi presento io come responsabile della squadra, quindi se ci sono delle situazioni che non vanno, è giusto che mi assumo io le responsabilità, è un momento difficile, anche se sicuramente la fortuna non ci aiuta in tante cose, probabilmente sono partite che si possono tranquillamente vincere, alla fine invece si perdono, è chiaro che quando si perde in casa, a due partite di seguito non è facile, è un momento sicuramente non è semplice, però come tutte le cose bisogna essere bravi a superarle, quindi nelle difficoltà bisogna lavorare ancora di più a testa bassa per raggiungere risultati sicuramente migliori. In questa squadra ha perso con due squadre che alla luce sono ricordo che sono tutti in campo, la Paganese per perso in casa con Monopoli, dimostra che ha degli evidenti limiti tecnici. Ma io sui limiti tecnici ho qualche dubbio, per quello che riguarda probabilmente il risultato vi devo dare ragione, perché quando si perdono due partite con due squadre alla nostra portata, sicuramente dà fastidio. commentare un aspetto tecnico quando crei tantissime palle e gol non è facile, questa è la regola del calcio, il gol non è fai, lo subisci, e quindi la squadra perde una partita che probabilmente forse per le occasioni create meritava un'altra sorte. i limiti, ripeto, sono limiti dettagli dal risultato. Poi dopo, io non ho visto questi limiti da campo, perché non ho ancora visto una squadra che ci ha subclassato da un punto di vista tecnico, ma solamente del risultato. Presidente, scusi, non è per parlare sulla prima domanda, non è questo che mi spero che apparebbe forse? No, no, no. Sono venuto io, non è venuto io. No, 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 no. Cioè, non è di questo punto, perché se dobbiamo parlare... No, 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 no. Io tecnicamente... No, volevamo chiedere, per esempio, al tecnico suoi cose. Tecnicamente parlo tranquillamente, senza tanti pre... Forse è un ruolo che mi si addice anche meglio da un punto di vista tecnico. Ma mai le tre sostituzioni, come si spiega? Ma probabilmente il misto aveva, nelle sue idee di cambiare le sostituzioni, che posso essere un attaccante per un attaccante, un trequartista per un difensore. Non ho visto una... Ha provato a recuperare una partita che in quel momento ci vedeva a svantaggio. Tante volte mettere più punte e togliere i difensori, si può anche creare un affollamento in fase offensiva e probabilmente diventa anche difficile trovare gli spazi giusti. In difficoltà di manovra? Probabilmente al primo tempo non ho visto questa difficoltà di manovra. Al primo tempo ho visto soprattutto non realizzare quello che è stato creato. Secondo tempo forse siamo stati un po' più macchinosi, probabilmente sotto di un gol non è stato facile produrre delle belle giocate, probabilmente siamo andati in difficoltà e alla fine il risultato non si ha premiato. Direttore, quanti e quali errori si imputa bene? Io mi prendo sempre tutti gli errori. Mi conosci, sai che parlo sempre di prima persona, la faccia ce la metto sempre, possibilmente più nel male che nel bene, perché nel bene mi interessa. In questo momento è giusto che quando i risultati non vengono, chi ha creato la squadra, quindi il direttore sono io, non è giusto dare delle colpe a un tecnico che è arrivato da poco o dei giocatori che onestamente stanno lavorando e stanno sudando la maglia, poi dopo non stanno dando delle soddisfazioni da un punto di vista del risultato, quindi è giusto che le responsabilità al 100% me le prendo io. Scusi, si prende le responsabilità, però prima lei ha detto che i limiti tecnici di questa squadra non ce l'ha. Ho detto, ripeto, i limiti tecnici, secondo il mio punto di vista, si notano quando una squadra non vince, perché i limiti tecnici quando si vince una partita è più difficile evidenziarli, si evidenziano quando si perde. Io onestamente ho visto una squadra che ha creato, soprattutto nel primo tempo, molto, o anche nel secondo tempo qualche occasione nitida che non è stata tramutata, quindi non è un limite tecnico. Io potrei anche pensare che è un limite in questo momento che le cose non girano per il verso giusto, siamo veramente sfortunati e quindi di conseguenza è giusto che lavoriamo sulla fase, diciamo così, dove non riusciamo ad essere produttivi che è quella del gol, perché creare tante azioni durante una gara e non tramutarli è giusto che uno lavora per tramutarli. Così com'è? In difesa, il primo errore? Siamo puniti, in questo momento ogni volta che facciamo un errore puntualmente veniamo puniti. Mi piacerebbe trovare una squadra che ci fa 10 tiri in porta e probabilmente non fa il gol. Adesso in questo momento gira così, ogni azione o un'unica azione andiamo in difficoltà e quindi prendiamo gol ed è questo sicuramente un altro dato dove poter lavorare perché sono convinto al 100% che questa squadra prima o poi cambierà il trend. Speriamo il prima possibile perché è chiaro che non è facile parlare di risultati negativi. I risultati negativi probabilmente ci sono perché è inutile che nessuno deve nasconderli non li nascondo però ho la convinzione che il lavoro paghi sempre per cui ho sempre avuto fiducia nel medio e lungo termine non mai nell'immigliatezza anche se per l'immigliatezza parliamo solamente di sconfitte.